Come si è messo? Al primo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto diverse situazioni per aumentare il vantaggio, non ci siamo riusciti e questo ha dato un po' di forza all'avversario che ci ha creato qualche problema in linea di massima, non specifico perché non abbiamo corso pericoli. Ci deve mettere in guardia questa cosa perché dal momento in cui diamo possibilità all'avversario di venire fuori dopo che noi dominiamo la partita ma non riusciamo ad aumentare il vantaggio, cosa che invece nel secondo tempo siamo stati sempre nel loro metà campo, abbiamo giocato tantissime palle, abbiamo creato azioni da gol, abbiamo fatto tre gol, abbiamo sbagliato forse altri dieci, abbiamo sbagliato i calci di rigore, quindi va bene così. Alla fine sono arrivati anche i tre punti che aiutano a crescere, ecco oltre magari alla scarsa venaria, come lei ha detto che avete sfumato più di qualche occasione, qual è forse la cosa che più rimprovera oggi i ragazzi oltre appunto questo e se c'è invece un pregio che possiamo trarre di questa gara? Guarda una squadra per crescere deve giocare prima contro se stessa, cioè non deve adagiarsi sulle capacità dell'avversario, se avviene questa maturazione una squadra diventa veramente diciamo temibile, diventa tetragono, diventa forte perché a prescindere dall'avversario gioca sempre con la stessa determinazione, cattiveria e quindi riesce a creare azioni su azioni e con quella cattiveria riesce a fare gol, praticamente non bisogna avere pietà. Invece una domanda su un singolo che ha anche giocato in prima squadra, sto parlando di appunto Genovese che sta facendo bene, oltre a segnare ha anche fatto un assist oggi, secondo lei è pronto per cercare di ritornare in prima squadra visto che c'era comunque riuscita all'inizio dell'anno? Allora, io quello che posso dire è che Genovese con noi sta facendo molto bene, un ragazzo che veramente svolge tutte e due le fasi molto bene, è pericoloso, si propone molto bene in aria, spesso segna, mi sembra anche oggi ha fatto gol, quindi è un giocatore da attenzionare, poi chiaramente per quanto riguarda il discorso della prima squadra ci stanno gli osservatori che vengono a vedere tutte le nostre partite e quindi se sarà matura la situazione io penso che farà parte del gruppo della prima squadra.